Un gol pazzesco! Una sconfitta di misura ma che lascia ben sperare in vista della gara di ritorno in programma sabato in Slovacchia. In compagnia di Riccardo Trillini, commissario tecnico delle Nazionali Azzurre. Prima di vedere un ampio resoconto della partita ti chiedo subito, coach, è stata una grande Italia, cosa è mancato? Forse è mancato qualche cambio in più e qualche soluzione in più in attacco. Abbiamo sofferto molto la loro difesa, una difesa che ci fermava sul nascere. Appena cominciavamo l'uno contro uno ci fermava. Avremmo avuto bisogno di altre soluzioni che chiaramente non abbiamo ancora nel nostro playbook. Quindi dovevamo sfruttare più il gioco veloce, la buona vena difensiva e soprattutto della Prunster. Quindi poi quando si perde di uno il rammarico c'è. Però devo dire che alla stessa maniera bisogna riconoscere che si è vista una squadra ben quadrata in campo con una struttura di gioco ordinata, disciplinata e soprattutto una capacità delle ragazze di restare sempre in partita, di essere sempre attaccate, non immoralizzarsi mai e di aiutarsi a vicenda. E allora vediamo rapidamente quanto è successo e cosa è successo alla Palagolfo di Follonica nella gara molto avvincente, tiratissima tra Italia e Slovacchia nel resoconto firmato da Matteo Aldamonte. Come spesso accade sono i dettagli a fare la differenza e Italia-Slovacchia non è stata eccezione. Azzurre però dal lato sfavorevole della storia perché alla Palagolfo di Follonica le Slovacche passano sul 21-20 ribaltando l'8-6 italiano alla termine del primo tempo. È un esito che lascia l'amaro in bocca alle ragazze di Riccardo Torilini brave ad interpretare con il giusto spirito una partita complicata e altamente probante. La Slovacchia vince e muove la sua classifica centrando il primo successo del suo gruppo 2 mentre all'orizzonte c'è la sfida di ritorno del 24 marzo a Sala. Italia priva di Rafika e Taki e Giusiganga in trappe infortunate. L'attesa è tutta attorno a Danica e Niederviser al rientro in gara ufficiale dopo oltre un anno. Il terzino in forza al Thuringer non deluderà le attese. Sue le prime due reti italiane, 2-2 alla sesto minuto. Pochi gol nel complesso a testimonianza di un match che ha il sapore della battaglia ancora parità al 22esimo con le squadre ferme sul 6-6. L'Italia poi cambia ritmo, merito di una pruster eccellente tra i pali. Del Valso in contropiede e Babbo dall'ala confezionano l'8-6 all'intervallo. Si va alla ripresa, la partita cambia perché l'Italia fa maggior fatica in attacco. Servono 6 minuti del secondo tempo per segnare il 9-8 con Landry in penetrazione ma nessuno va in fuga. Si procede punto a punto, colpo su colpo. Ultimo quarto d'ora e ancora parità, 14-14. Rush finale a tre dalla fine Slovacchia avanti, 19-18. Parata di Prunster ma in velocità sullo rovesciamento l'Italia spreca. Il più due nei secondi finali non lascia spazio se non al gol finale firmato del Valso. A Folonica la Slovacchia vince 21-20. Tra due giorni, il 24 marzo, sfida di ritorno in trasferta a Salah. E a fine partita abbiamo raccolto le impressioni di due tra le protagoniste in maglia azzurra ovvero il portiere Monica Prüster e la stella Anika Niederwisser che rientrava quest'oggi in nazionale disputando una partita ufficiale con l'Italia. Un giudizio sulla prestazione di Anika Niederwisser? Fantastico, direi proprio è quello che desideravamo e lei ci teneva tantissimo e ha dimostrato di essere una giocatrice di altissimo livello. Ha tenuto in piedi la difesa e ha fatto i suoi gol che doveva fare e soprattutto all'inizio è stata l'unica che riusciva a vincere l'Unione contro uno. Brava, aveva bisogno un po' di rifiatare, di gestire il primo tempo per arrivare fino al sessantesimo è stata molto brava però citiamo anche Monica Prüster che nel primo tempo ha avuto un 65% incredibile purtroppo non era facile restare su quei livelli ma è stata anche lei determinante per riuscire a stare sempre in partita. Ascoltiamo proprio Monica Prüster e Anika Niederwisser al microfono di Matteo Aldamonte. Penso che sia stata una bellissima partita, alla fine non è questo che ce lo meritavamo perché come abbiamo giocato sicuramente doveva andare meglio soprattutto il primo tempo dove abbiamo difeso benissimo le cose sono andate benissimo e quindi guardiamo la partita di sabato. Appena dopo il fischio finale tanto Irene Fanton quanto Valentina Landri hanno parlato subito della partita di ritorno perché sabato il 24 si scende in campo a sala dove l'obiettivo è senza dubbio quello di centrare un risultato che stasera abbiamo visto è possibile e ovviamente la vittoria. Infatti noi andremo lì sabato in Slovacchia e il nostro unico obiettivo è vincere la partita ce la possiamo giocare e noi sicuramente ce la metteremo tutte per portare a casa un buon risultato. Ed era la partita quella contro la Slovacchia in casa del ritorno in gara ufficiale dopo praticamente un anno e mezzo di Annika Niederviser una prestazione sicuramente importante di Annika e tanto sei soddisfatta dell'apporto che ha dato la squadra? Sì sono da un certo punto soddisfatta però dall'altro punto siamo un po' triste ovviamente perché ci stavamo credendo abbiamo dato tutto fino alla fine e un gol è sempre ci pensi ad ogni errore che fai però comunque adesso proviamo di analizzare bene quello che abbiamo sbagliato e a far meglio e poi vogliamo andare lì a vincere perché sappiamo come abbiamo visto oggi che è tutto possibile se forse giochiamo un po' con più lucidità e devo dire il primo tempo come abbiamo giocato lì sicuramente tutto il mondo sarà sorpreso perché abbiamo difeso benissimo abbiamo spinto in attacco un pochettino possiamo migliorare però quello va bene è importante la difesa e portiere alla seconda fase. Ecco partite così però sono il chiaro sintomo il chiaro segnale che l'Italia della palla a mano può davvero ambire a crescere in breve tempo e a giocare partite contro avversari importanti. Sì è una caratteristica che abbiamo è che giochiamo con il cuore che diamo tutto e forse la Slovacchia oggi non ha dato quanto noi sono state un po' più furbi hanno avuto un po' più di esperienza però noi giochiamo col cuore e penso che si era visto oggi. È un momento importante per il movimento italiano per la palla a mano italiana di recente l'assegnazione delle finali dei campionati europei under 17 femminili che si svolgeranno a Pescara l'anno prossimo, designazione che fa il paio con quella ancora più prestigiosa dei mondiali di beach che si terranno a Pescara nel 2020. È un momento importante Riccardo anche perché mi pare che stia cambiando il vento anche in Europa c'è una maggiore considerazione della federazione italiana. Sì è vero io credo che la federazione europea ha visto che l'Italia vuole emergere da questo anonimato da questi anni in cui la palla a mano non ha espresso un reale valore di quello che c'è dietro e ci sta aiutando. È vero pure che la federazione in questo momento ci lascia lavorare a tutti i livelli nazionale maschile, femminile, fino al beach e fino a tutte le categorie giovanile. Quindi sicuramente i risultati arriveranno. Stiamo parlando di sport e quindi ci vuole del tempo. Sport di squadra, tantino più complesso rispetto a uno sport individuale dove è più facile forse trovare il campione assoluto. La precisazione è giustissima. Abbiamo bisogno che tutto il movimento cresca, non solo che le nazionali lavorino in una certa maniera. Poi è una federazione, è una nazionale, non una squadra di club e non si possono acquistare i campioni. Ci dobbiamo costruire, formare e migliorare il gioco di squadra e migliorare la nostra mentalità. Ci vuole tempo, ci riusciremo, secondo me ci riusciremo e la federazione si accorta e la federazione europea ci sta aiutando. Assolutamente sì. Allora ascoltiamo proprio il presidente della federazione italiana Gioco Handball Pasquale Loria fare un po' il punto sulle tante iniziative in cantiere e sui tanti prestigiosi riconoscimenti che sono stati attribuiti all'Italia proprio in questo ultimo periodo. I 1500 spettatori del paragolfo di Follonica nella gara tra Italia e Slovacchia conferma del grande entusiasmo che c'è attorno alla Palamano Italiana, alla Maglia Azzurra, agli eventi della federazione italiana Gioco Handball, ce lo conferma il presidente Loria. Sì, era anche difficile oggi portare molta gente qui al paragolfo perché è un giorno infrasettimanale, un orario che chiaramente non favoriva l'affluenza del pubblico. grande risposta della Toscana, delle società toscane, come c'è stata grande risposta sempre quando siamo andati nei territori perché questo è il nostro obiettivo, portare la Maglia Azzurra ma portare anche tanti eventi in giro per l'Italia per valorizzare le singole realtà locali e per promuovere la Palamano dove c'è e speriamo fra qualche tempo anche dove non c'è. Probabilmente quella di creare momenti di incontro del movimento, eventi di questo tipo non solo appunto di nazionale ma sfruttando anche nuovi format, nuovi eventi, nuovi appuntamenti è una formula che si rivelarà vincente per accrescere l'attenzione attorno al nostro movimento. Sì, sicuramente, ora abbiamo iniziato con la Maglia Azzurra, siamo partiti così con alcune manifestazioni anche a livello di club, prima da tutta la Coppa Italia, però ora stiamo cercando di progettare qualche altra cosa di diverso con la partenza del campionato a Girone Unico l'anno prossimo speriamo di poter giocare la prima giornata con la formula dell'Open Day e quindi di organizzare in un'unica sede tutte e sette le partite della giornata d'apertura e costruire intorno a questo format un evento che possa coinvolgere tutto il campionato, tutto il movimento e tutto il territorio che lo ospiterà. Quanto alla Maglia Azzurra invece è notizia fresca l'uscita delle urne per quanto riguarda i gironi di qualificazione ai campionati europei del 2020, il sorteggio il 12 a Trondheim in Norvegia e anche lì la federazione sta già guardando alle possibili sedi, a quanto ci aspetta tra ottobre, aprile e giugno del prossimo anno? Sì, saranno tre incontri molto importanti perché ci giochiamo effettivamente la qualificazione forse come non mai in questa occasione abbiamo l'opportunità di passare alle fasi finali sicuramente giocheremo la prima partita contro un avversario molto molto forte di fascia e poi avremo ad aprile il doppio confronto tipo quello con la Slovacchia oggi nel femminile con la squadra nostra diretta concorrente per la qualificazione per terminare con l'incontro di giugno che sarà poi quello decisivo e definitivo. Tre sedi che dovranno essere scelte con molta attenzione cercando di trovare delle location adatte non solo dal punto di vista dell'impianto ma anche della risposta del pubblico e del calore che questo pubblico dovrà portare alla nazionale per spingerla verso la qualificazione. Approfittiamo della presenza di Riccardo Trillini per fare il punto anche sulla nazionale maschile perché non conosciamo ancora i nomi delle nostre avversarie per il girone di qualificazione alle finali degli europei maschili in questo caso sappiamo però le date c'è però una speranza la speranza di non affrontare le superpotenze delle rispettive fasce nel prossimo girone che verrà sorteggiato in Norvegia. Abbiamo tanta voglia di entrare in questi europei è un'occasione in più che si ha perché con la qualificazione a 24 squadre abbiamo tanta voglia non ci dobbiamo dimenticare che siamo ancora di quarta fascia ma dobbiamo essere fiduciosi di quello che stiamo facendo dei buoni risultati che abbiamo avuto a gennaio poi chiaramente il sorteggio ci deve aiutare tra un europeo a 24 squadre questo lascia qualche margine in più per la qualificazione chiaramente bisogna però arrivare eventualmente terzi ma per potersene essere ripescati dobbiamo vincere con la prima o la seconda per cui il sorteggio sarà fondamentale quasi spererei con una grande nazionale top tipo Francia o Germania come prima fascia perché questo ci può anche aiutare come l'organizzazione di questo evento può aiutare la Palamano italiana e poi nel sorteggio la seconda squadra e la terza squadra della seconda e terza fascia spero bene. Speriamo abbordabile. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati, alcuni spot promozionali poi rientriamo nel studio per fare il punto sui campionati, i campionati maschili che a differenza dei campionati femminili, del campionato femminile hanno giocato sia nel scorso sabato sia nella prossima weekend. Ancora un tutto esaurito al Foro Italico in Roma dove i campioni non smettono mai di darsi battaglia. Pietrangeli strappa applausi con la volley bloccata di dritto. Slever esegue un perfetto serve and volley ma il rovescio a due mani di Borgo è uno spettacolo. Gabriela Sabatini si sposta sul dritto e comanda lo scambio. Muster si allunga ma contro il top spin di Nadal non c'è speranza. Serena scaglia una botta da fondo però Sverev resiste e colpisce a lungo linea. Il re di Roma è lui! Gli anni passano, gli stili cambiano, un torneo che è già leggenda, resta. Dal 7 al 20 maggio al Foro Italico gli internazionali BNL d'Italia. Che storia! L'inverno sembra non finire mai. Sorridi! Riaprono le iscrizioni ai centri estivi della Fit per l'estate 2018. Visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi.it oppure chiama il numero 06 87 15 3570. Brallo, Serra Mazzoni, Castel di Sangro, Trabia, Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile. Centri estivi Fit. L'estate dentro di te. Ed allora abbiamo parlato di nazionale maschile, degli impegni che attendono la formazione azzurra guidata da Coccia Trilini che guarda con grande attenzione, legittima, anche allo sviluppo della seconda fase dei campionati l'anno prossimo girone unico, si sta arrivando al girone unico attraverso una serie di partite. Ciò che è certo è che nella pull playoff, quella che poi determinerà appunto le quattro semifinaliste, i giochi sono ritornati nuovamente aperti dopo la sconfitta del Pressano a Bolzano. Io credo che è quasi chiaro che le quattro squadre che arriveranno in finale sono Bolzano, Pressano, Fasano e Conversano. I risultati stanno dicendo che sarà combattuta fino alla fine. Questo è un bene, è un bene per noi perché saranno dei playoff di alto livello, soprattutto saranno equilibrati, ecco cosa volevo dire. A differenza degli anni passati forse sono quattro squadre a contendersi il titolo italiano, non più due come è accaduto in questi ultimi anni, ovvero Fasano e Bolzano che sono state le dominatrici assolute degli ultimi campionati maschili. Questo è importante perché l'anno passati si aspettava la finalissima. Quest'anno anche le semifinali avranno un valore, questo daranno ancora possibilità alle squadre di crederci e giocare nell'ultimo mese. chi arriverà nell'ultimo mese è più in forma e sto parlando forse di più mentalmente perché noto che Bolzano e Fasano devono ritrovare questa loro autostima e cercare di arrivare in quel momento con una forza e considerazione. Però vedo veramente una grande parità tra le quattro squadre. Occhio perché le altre due squadre che partecipano alla pool playoff stanno veramente stupendo tutti, basti pensare a quello che ha fatto il Cingoli contro il Fasano, Cingoli che è andato ad un passo dall'impresa. Vediamo questo servizio che fa il punto sulla pool playoff e poi ne discutiamo ancora con Riccardo Trillini. La pool playoff della Serie A1 maschile va verso la quinta giornata e sarà un turno di assestamento per una classifica che dopo i primi 240 minuti giocati deve ancora svilupparsi a pieno, a cominciare dal primato diviso fra Conversano, Pressano e Bolzano, tutte impegnate su campi diversi. La partita di cartello del sabato è senza dubbio il derby di Puglia fra Fasano e Conversano, bilancio stagionale che pende dalla parte dei ragazzi di Tarafino, una vittoria e un pareggio in regular season, ma Fasano sabato scorso ha vinto lottando a Cingoli, centrando il secondo successo consecutivo in pool playoff. Insomma, tutto da vedere quanto accadrà nei 60 minuti della palestra a Zizi. Pressano reduce dalla sconfitta pesante per mano di Bolzano nel fine settimana scorso, fa i conti con un Cingoli rinvigorito dall'ottima prestazione offerta contro Fasano. Al Palavis, partita non semplice per i trentini, anche se i marchigiani di Nando Nocelli si sono fin qui dimostrati meno brillanti in trasferta rispetto a quanto mostrato invece alla palacuaresima. Occhio poi a Castenaso, sfida serale fra Bologna e United e Bolzano in campo dalle 20 a 30. E anche qui partita complicata per i campioni d'Italia di Alessandro Fusina, che però sono reduci da una prova di forza chiara ai danni di Pressano nell'ultimo turno giocato. Siamo una squadra, la nostra forza deve essere questo, dobbiamo essere un gruppo, una squadra. Ora non riusciamo a capire cosa ci manca, perché noi in allenamento facciamo bene, tutto va alla grande. Poi arriviamo in partita, era andato un po' meglio contro Bologna sabato scorso. Ripeto, dobbiamo tornare a essere il Fasano che eravamo prima e tutto andrà per il meglio. Derby contro Conversano, un'occasione importante forse per dare quella scossa che vi serve. Senza dubbio, per noi il derby, per i nostri tifosi è una partita fondamentale, giochiamo in casa, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo in quella partita, perché il Conversano è una delle favorite, da come gioca, da come è andata la Coppa Italia, e dobbiamo tornare a essere noi stessi e dare tutto il possibile in casa per vincere quella partita. Ecco, chiaramente nell'immaginario collettivo, è vero, le quattro squadre che probabilmente, molto probabilmente, si contenderanno poi la finale. Dunque, il titolo italiano sono quelle ampiamente note, vale a dire Bolzano, Fasano, Pressano e Conversano, però Cingoli che gioca una gran partita contro Fasano sfiorando anche la vittoria. Bologna che, soprattutto a Conversano, disputa la gran partita, dimostra che alle spalle delle quattro favorite c'è comunque qualcosa che si muove e si muove in maniera importante. Sicuramente nel giro dei play-off, Cingoli e Bologna stanno interpretando il ruolo che le compete con un grande onore, perché non hanno niente da perdere, stanno solamente facendo esperienza e la stanno facendo bene. Però dobbiamo anche dire che c'è un altro girone di altri che stanno lottando per restare nella massima serie e ci sono anche lì squadre importanti che potrebbero anche poi nel campionato del prossimo anno essere più forti magari di Bologna e Cingoli, che sono comunque due squadre giovanili e solo il margine di miglioramento è altissimo. Ecco, due nomi su tutti, che sono anche un po' la tradizione della palla a mano italiana, Trieste e Bressanone, che sono impegnate in questo momento nella pull play-out e proprio Trieste ha battuto Bressanone in quello che è considerato il derby d'Italia, due squadre che però con molta probabilità entrambi approderanno nel girono unico della prossima stagione del massimo campionato. Intanto facciamo il punto anche sul secondo girone. Fondi Trieste, il match of the week in diretta a TV su Sport Italia nel fine settimana della pala a mano italiana. Alla pala sport della cittadina laziale va in scena un confronto fra squadre in situazioni di classifica ed emozionale opposte, padroni di casa che hanno raccolto meno di quanto seminato, ovvero un solo punto fino a qui. Decisamente meglio Trieste, che grazie alla vittoria nel derby d'Italia contro Bressanone sabato scorso comanda ora la classifica della pull promozione e viaggia spedita verso l'accesso al girone unico del prossimo anno. A proposito di Bressanone, altoatesini che tornano in casa dopo la sfortunata trasferta del Palachi Arbola e si preparano a misurare la propria voglia di riscatto con le ambizioni di un Cologna e deciso a rientrare nelle prime tre posizioni evitando il terribile purgatorio di play-out permanenza. Obiettivo analogo per Albatro Siracusa e Oriago Padova in campo nell'ultima delle tre gare in calendario nel programma di sabato in pull play-out. Intanto si gioca per l'ultima giornata prima dei play-out permanenza. L'unico verdetto ancora atteso riguarda il girone B dove una fra Romagna e Modena sarà destinata a salutare anzitempo la massima serie. Una sorte è questa di cui hanno invece già preso atto Molteno e Ragusa nella fine settimana scorso. Bene, abbiamo fatto poi il punto su tutti gli altri gironi perché da questo incrocio anche abbastanza complesso, complicato verranno fuori le 14 squadre che l'anno prossimo parteciperanno al prossimo campionato. Ecco, la formula mi pare stia alimentando i sogni e le speranze di tutti perché tutti ambiscono ad entrare nell'elite, ovvero nella prossima serie A a girone unico. Questo è un fatto estremamente positivo per l'immovimento, no? Sì, la formula è stata anche difficile da capire ma è stata una formula che ha dato la possibilità a tutte le squadre di poter accedere alla serie A in una sola stagione dando anche la possibilità a chi era in A2 di poter quindi salire e questo fino alla fine del campionato dà delle grandi possibilità a tutte quante che se la stanno giocando e, ripeto, dà un senso anche a questa finale di stagione dove tutte le squadre hanno l'obiettivo ancora vivo e quindi si possono allenare, possono giocare fino alla fine stagione. È tutto, è tutto per questo numero speciale di Handball Mania. Prima di salutarvi però, insomma, Trillini di nuovo in campo con le Azzurre in Slovacchia sabato a Sala a fine partita tutte le ragazze, devo dire che questo è stato un segnale estremamente positivo che ho colto, hanno già dato appuntamento in Slovacchia hanno voglia di riscatto, sentono di poter conquistare un successo e questo è un elemento dal punto di vista psicologico di grande importanza da sottolineare. È verissimo, abbiamo visto le ragazze piangere e quindi c'è rammarico e c'è, allo stesso tempo, desiderio. Credo che non abbiamo avuto un arbitraggio favorevole in casa e dobbiamo quindi pensare positivo che magari anche in Slovacchia avremo un arbitraggio che ci lascia giocare come oggi e quindi potremo anche vincere perché no. Perché no? Grazie, grazie a Riccardo Trillini. Termina qui questo appuntamento di Handball Mania l'appuntamento come sempre a giovedì prossimo nell'Emore però non dimenticate quello che è il nostro motto contagiatevi con la palla a mano uno sport elettrizzante straordinario. Arrivederci. Un gol pazzesco!